Marisa! Vieni quassù! C'è una vista da favola! Il suo amico Johnny beveva molto? No. Ma quella notte aveva bevuto, hai idea del perché? Rientriamo nel campo delle ipotesi. Sa se gli è successo qualcosa quel giorno che può averlo spinto a bere? Avete giocato un amico, magari qualche cattiva notizia che può aver ricevuto? Io ti amo e so che mi ami anche tu. Sì o no? Mi scusi, detective, vorremmo restare un minuto da soli. Non può andare avanti così. Non è giusto e non solo verso di te, ma anche verso la conclusione bruciata. Ryan, verso Ryan, io sto con te. Ma qualcosa l'ho fatirono in testa. È stata ritrovata fra le ceneri di un falo sulla spiaggia. Non sono innamorata di te e non lo sarò mai. Posso vederla. Sembra che Johnny abbia preso molto male la notizia. E immagino che neanche il suo fidanzato fosse tanto contento. Ryan non sapeva niente della lettera. Non c'entra con questa storia. Lasciagli fare le domande. No, non importa, voglio dirglielo io. Ryan non l'ha spinto. E Johnny non si è suicidato. È stata una fatalità. È scivolato. Johnny! Johnny! No, grazie. Una volta io e Johnny eravamo amici. Lui e Cili ci seguivano sempre in spiaggia per convincerci a insegnarli a fare surf. E che è successo poi? È diventato più bravo di me. E questo mi faceva rodere. Non lo dico a nessuno, non preoccuparti. Ciao. Senti, se ti va di parlare e di stare insieme, quello che vuoi, fammelo sapere. Grazie, non mi interessa. Ne sei proprio sicura? Non lo dico a nessuno neanch'io. Grazie, non mi interessa.